Dove sei finito? No, dove ti sei nascosto? Dove sei dietro la pietra? Ho paura? Sei dietro la pietra sicura? Dove accidenti sei ferito? Abbi il coraggio di affrontare! Abbi il coraggio e fai l'uomo! Attacco! Sì! Dove sei uscito fuori, brutto e disgraziato? Ti ammazzo una volta e siamo pari! Ma ci ammazzo... No! No! E ragazzi, come va? Io sono Feriniki! E io sono Steph! E questo gioco è Maroblo! E andiamo subito a salutare i nostri sei eroi del giorno Che per oggi sono Maria Vittoria, Leonardo, Lorenzo, Pro Player, The Ender King e Kevin! Ciao ragazzi! Grazie mille per la condivisione! Vi ricordiamo che anche nell'outro saranno salutati altri sei eroi! Oggi siamo su Super Hero Tycoon! La mappa più giocata in assoluto di Roblox E probabilmente è la mappa che più ci avete chiesto nei commenti Non so quanti di voi ce l'hanno chiesta Quindi eccoci qua a provarla Penso che io ogni volta che entro su Roblox Ok Ho qualcuno in chat che mi chiede di giocare questo Tycoon Quindi abbiamo deciso di provarlo anche noi Io ho preso Hulkbuster, mentre tu? Io ho preso Joker Contanto che mi hai rubato Joker io ho detto prendo Hulkbuster perché così puoi armi fortissime Che ti potranno spaccare la faccia Voglio dire una cosa Che ci hanno proprio detto che la cosa bella di questo Tycoon sono le armi Quindi dobbiamo muoverci a fare una bella produzione Fare soldi e avere le armi dei supereroi Perché ci hanno detto che proprio picchiarsi è la cosa più divertente Quindi diciamo che il mio Tycoon preferito Quando ci si può picchiare con armi fighissime io sono sempre felicissima Io voglio dire un attimo una cosettina Praticamente FeriNiki è andata a prendersi Hulkbuster C'era un player dietro di lei tipo a 20 secondi da lei Ha iniziato a lamentarsi in una maniera incredibile in chat Perché voleva lui Hulkbuster Ed è già due ore che rompe le scatole in chat parlando da solo Soltanto perché E continua a rompermi però Io e il signor Maialino siamo più veloci Cioè mi dispiace Sono arrivata prima di lui che ci possa fare pure Hulkbuster in mio Cioè voi ci vedete come Hulkbuster Io sì che mi ci vedo Esatto Quindi non potevo lasciarlo a nessuno Mi dispiace Ma signor Maialino vuole così Anche lui vuole Hulkbuster Scusami Eh se lo vuole Mr. Maialino Signor Maialino Non sbagliare Uffa mi viene Si è visto Invece che signor Non è colpa mia Non sbagliare Comunque muoviti a fare quei dropper Dai Ho messo già il secondo Vedi Guarda vieni 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 questi cubetti Fosporescenti Yeah È uno stalker Mi fa paura Guarda Live fair Allora Allora scusami Tu non puoi combattere Signor Maialino Non puoi anche se Quel dino nella spalla è brutto Capito Signor Maialino è meglio Non ci provare Guarda è anche un pg bruttissimo Non sei neanche capace A farti il pg figo È una battaglia Mi ha consigliati tutti Signor Maialino Io ho paura per questo Povero ragazzo Che non sa cosa gli aspetta Appena freni Chi avrà delle armi Guardatelo Per ora è così felice E tranquillo Ma finirà davvero malissimo Anche questo Tu che cosa vuoi Guarda mi state facendo arrabbiare tutti Dovete andarvene È il mio take on questo Ok Abbiamo fatto tanti video di Roblox Ma io non avevo mai visto Una roba del genere Allora Io consiglio a tutti Di non far arrabbiare Signor Maialino Perché altrimenti Succedono cose terribili Diventa Hulk? Sì diventa Hulk Buster Buster è quello potente Per fermare Hulk Maialino Buster Quindi è una cosa ancora più forte Di Hulk Sto esagerando Live Live server Mamma mia Che brutto Diteglielo tutti che è brutto Glielo dovete dire Allora potenziati il dropper E poi ce ne torniamo al nostro Visto che Questo qua tanto rimane qua fermo È tutto rosso Proprio rispecchia molto i colori Del supereroe che scegli Il mio è tutto Rosso e giallo Come infatti è Hulk Buster No Hulk Buster È Iron Man Allora Hulk Buster È costruito da Iron Man Per contrastare Hulk Quindi ha i colori di Iron Man Comunque Anche se è Hulk Buster Guarda so tutto sui supereroi Ho anche due nipotini maschi Che mi fanno una testa A palla sui supereroi Quindi E ho visto tutti i film ovviamente Quindi non posso Hai soldi per il terzo Che vorrei scappare Prima che questo continui a scrivere Ci tengo anche a dire una cosa ragazzi Ci state mandando Tantissime richieste di amicizia Purtroppo Nel gioco il massimo è 200 Siamo entrambi a 200 Quindi non possiamo Piacere nessuno Però nel nostro profilo Quando andate per aggiungerci Esatto In alto a destra Avete dei puntini Se li cliccate Lì c'è follow Praticamente seguendoci Se noi siamo online Credo che potete entrare Anche così Dove noi giochiamo Avevo chiesto a Momi Appunto per conferma Questa cosa Vedete comunque Il tastino join game Quindi anche se non vi abbiamo Tra le mie amicizie Se non vi abbiamo accettato Perché siamo pieni Ma con follow Potrete comunque giocare Insieme a noi Esattamente Ascoltami Che succede Che succede Che succede Oh le prime armi C'è il coltello di Joker E la pistola di Joker Quanto costa Quanto costa Oh mio dio Ce li ho ce li ho Ce li ho ce li ho Oh mio dio Prendiamo il coltello Ma sono diventati tutti i consolini È andato via later Volevo uccidere later Io non vedevo l'ora di ucciderlo Però non mi potete dare Non dare questa soddisfazione Il signor Malino Si è arrabbiato Ha detto che voleva i pugni di Hulk Per ucciderlo Te lo dico Io sto provando ad andare a coltellare Ma non ci riesco Lo posso prendere anch'io Sì Sì certo Puoi prendere tutto Guardami Guardami È fortissimo Guardami Col coltello Ma mi è c'è da me Sì esatto Ok abbiamo 5000 Finalmente si inizia a fare su serio Anche con i soldi Aumentiamo i nostri bellissimi dropper Allora prendiamo questo Vai Super dropper Questo cosa dovrebbe Bello questo è gigante Mi esce anche l'upgrader Sì Ora è tutto potenziato Quando si prende l'upgrader Adesso penso con i soldi Penso con i soldi Si iniziano a fare soldi veri Sicuro Guarda è comparso Il primo dropper Anche da questo lato Vedi Che succede Sono bruttissima persona Adesso guarda cosa faccio No Allora Io so cosa vuoi fare Vai Uno contro uno Mi confondo perché è pieno di te con Rossi Qual è il mio Facciamo l'uno contro uno Prenditi la tua dannata pistola Quello che volevo fare Se riesci ad uccidermi Vieni a sidarmi E vediamo chi vince Quanti soldi ho fatto Questa è la sida Dai premile 6 Contro signor maialino Signor maialino vince sempre Anche quando non vince lui Ha vinto Allora devo essere Pronta a schivare Aspetta non mi è ancora Parsa Ok Bella questa Adesso ti faccio Rosicare Cioè vabbè Ha un fucilone Io sono a coltello Come si spara Scusami Aiuto Che cos'è Oddio Come si usa Devo schivarti a zig zag Ti schivo a zig zag Vieni qua che ti faccio A fettine Ma non riesco a prenderti Perché non riesco a prenderti Taglio a fette come una bistecca Non ci provare Non ci provare Non ci provare No mi ha preso Ti ho preso Ti sto prendendo Come hai fatto a uccidermi Non eri abbastanza vicino Non vale Non vale Allora Ci sono tutte le registrazioni Quanti soldi ho Devo comprare anche la velocità Ho capito Devo comprare Guardacelo Ascolta Era solo una sfida Una sola volta No no Questa è guerra Questa è guerra Questa è guerra Guarda come corre Aiuto No non ho preso Sono morta Mi sono dimenticata Di riprendere il fucile Aiuto Mi nascondo Aspetta Aspetta Adesso ci sono Con fucile E super veloce Super veloce Scusami Dove sei finito No Dove ti sei nascosto Dove sei Dietro la pietra Ho paura Sei dietro la pietra sicura Dove accidenti Sei ferito Abbi il coraggio Di affrontarmi Abbi il coraggio E fai l'uomo Attacco Sì Dove sei uscito fuori Brutto disgraziato Queste vetre Sono totalmente finte C'entri dentro Quindi era dentro La roccia Sei una bellissima persona E Hulkbuster muore Ma questo Questo mette laser dagli occhi Guardalo Guardalo Stiamo tirando laser dagli occhi Aiuto È Superman Iniziano ad avere tutte le armi E sta succedendo un disastro Vedete ragazzi Joker l'ho scelto per questo Cioè mi rappresenta perfettamente Lei aveva armi più forti di me Era più veloce di me Però ho vinto lo stesso Io Ma perché sei un disgraziato che cita Come Joker Allora Sì Ascolta Torni a fare pace amore Stando tranquilli Ti ammazzo una volta E siamo pari Ma se No No Ti odio Ti odio Ti odio Sei una persona Terribile Questo è accanimento Contro me Signor Maialino Non vale È accanimento Contro me Signor Maialino Non ci provare mai più Sei tu che sei venuto a provare ad uccidermi E sei morta Ma resto nel mio tecun E non torno più Non tornerò mai più Guarda No abbiamo litigato per sempre Litigato forever E non saremo mai più amici E neanche compagni di video Niente Ma scusa Era una sfida Fai zitto Era una sfida alla pari Non provare ad aprire la bocca Guarda Uffa Credo che siano gli armi di Spider Chi mi ha lanciato i ragni Oh mio Dio Aiuto Mi stanno uccidendo dei ragni Che schifo Sto cercando di ucciderli con la pistola Sto cercando di ucciderli Fammi uscire Aprimi la porta Che mamma Uccidi il capo dei ragni Aprimi la porta L'ucciso E' ucciso anche te scusami Ero No Non importa No comunque i ragni rimangono Cioè non avrò per sempre i ragni in casa Siamo morti tutti con i ragni Non ci credo Che schifo Sono bellissimi i ragni Li andiamo a prendere anche noi Ma che schifo Andiamo a prendere i ragni Voglio i ragni Sono qua Sono qua Perché Spider-Man è qui Giusto Spider-Man si Saranno di Spider-Man per forza Allora non ha ancora la porta Possiamo prenderli Spider-Man è questo rosso Aspetta che c'è questo qui a pistola Sì 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 Andiamo a prendere i ragni Vieni vieni Che io corro E poi la Spider-Sword Allora Li rilasciamo in casa Esci fuori Così li uccideranno I suoi stessi ragni Esci fuori Perché non voglio uccidere te Fai così E scappiamo Scappiamo Ma ci seguono Oh mio dio E' terribile sta cosa Corri Ti dovresti prendere la speed da me Guarda Ti dovresti prendere la mia speed Aiuto Guarda come corro più di te Aiuto Ma seguono a noi È una cosa terribile Sono contro di noi Lo stesso i ragni Mi stai uccidendo Li posso sparare secondo te? Io di sicuro posso salvarmi a casa con il laser Spero Ma sì Li do fuoco Ok Li do fuoco se li sparo Stai scherzando Guarda lì Li vedo Li vedo Stanno bruciando Oh mio dio Oh mio dio È bellissimo Vieni dentro va Aprimi la porta dai Ok Io te l'avevo detto Che questo Taekun Ha delle armi davvero epiche Ma l'hai visto cosa tutto c'è È bellissimo Guarda i miei soldi Vedi consulini avevano ragione Che ci saremmo divertiti Con questo Taekun Oh mio dio quanti soldi hai Per di più abbiamo visto ragazzi Che ogni tutti i giorni Cambiano i supereroi Quindi ci potremmo fare Anche altri episodi Perché ogni volta cambiano Quindi armi diverse Ho notato che cambiano in continuazione Sì 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 Sarà divertissima Quindi armi diverse Cose ancora più divertenti Allora Sette mila Ok Poi costa nove mila Continuo ad aumentare la produzione Perché così facciamo un sacco di soldi Dopodichè Voglio fare anche il secondo piano E vedere cosa c'è Sicuramente ci sarà un secondo piano Sì guarda È qua È qua Secondo piano Te lo concedo Ancora visto il bottone Ah io no posso fare Ah devi prendere anche le scale scusa Vabbè ce li ho Anche le luci Vieni giù Vieni giù Vieni giù Ma bello è tutto illuminato Vero Adesso bello Bellissimo È davvero figo Mi sta piacendo tantissimo Andiamo a vedere Vieni di sopra Allora Upgrade walls Il pants che vabbè Il solito Il percorso Un'altra weapon room Un'altra weapon room Cioè mi dici che non sono finite così le armi No Ce ne saranno altre È il taekun della mia vita È il taekun della mia vita Lo sappiamo È il taekun della mia vita Continuo a dirle È fantastico Guardami guardami È fantastico Mio Dio Che facciamo Adesso ci siamo Ma perché ha tutto senza il Ragni Guarda i ragni che inseguono Ragni E me ne vado via correndo Dato che io Scappa scappa Li sta bruciando con gli occhi di Superman Bellissimo Dobbiamo comprare la nuova produzione Per fare ancora più soldi E quindi arrivare finalmente a chiuderci Ed essere al sicuro A quel punto l'obiettivo sarà Rubare le armi altrui E massacrare tutti Distruggere tutti Proprio ragazzi Non risparmieremo nessuno Come loro non hanno risparmiato noi Compriamo questo Uh Bello È diverso Vedi che è diverso Guarda però Qui c'è il buco È la produzione che cade lì sotto Carinissimo Come l'hanno fatto Davvero davvero carino Bellino Advanced Dropper Vai lo prendo Altri 10.000 Stanno iniziando a costare parecchio Mi stanno spennando Mi stanno letteralmente spennando Però guarda che bei blocchi Vieni Andiamo anche noi Cadono direttamente sotto Dai cadiamo anche noi sotto Aspetta arrivo Yeah Ma l'hai visto che sono risalito Ce la fai Non ho colpito i blocchi E mi hanno fatto saltare Ecco dicevo strano come hai fatto a risalire Ok ok I big bug Scegli La weapon Weapon room Dai Che domande sono Ma che domande mi stai facendo scusami Joker's bomb Cos'è questa cosa No Leggi l'altro Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio È bellissima È bellissima È bellissima sta cosa Io non No non ce la faccio Non ce la faccio a vedere queste cose Non me lo possono dire No no Quindi mi stai dicendo che io avrò il costume da Hulkbuster Sì Fammi uscire immediatamente Fammi andare alla mia produzione Io voglio dire anche una cosa Che in questo momento Noi stiamo registrando Ok E praticamente sta per uscire il video Delle 19 E praticamente dovremmo finire Perché è tardissimo Però non possiamo Cioè dobbiamo finire la mappa Quando una mappa è così bella La dobbiamo per forza finire Giusto? Assolutamente Vai Corri Corri Vai a prendere le tue cose Perché non ho più la super speed? Che tristezza Mi è sparita Forse è un tempo limite Non lo so Vieni 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 Non vedo l'ora Aspetta aspetta Eccomi Eccomi Oh mio dio Oh mio dio Guardami Guardaci Oh mio dio Siamo due Joker Oh mio dio Fantastico Bellissimo Ma è troppo carina Questa cosa che ti puoi anche vestire Da super eroe È troppo carina L'hanno pensato davvero bene L'hanno pensato davvero bene I costumi Sono davvero davvero carini Un altro regalino L'altra arma? Sì Dai Vai Vai Che cosa sarà mai Dinamite Dinamite Non appoggia Attenta Scappa Oh oh Aiuto La posizioni nei tuoi piedi? Come funziona? No aspetta Aspetta che ci riprovo Stai lontana Che è pericolosa Sì Ah ok Sì La posiziona nei tuoi piedi Quindi Credo che sia Mentre scappi Quando ci tirano i ragni Almeno possiamo fare Piazza pulita Con tutta la dinamite Tu te ne sei andata Sì No Che cosa hai? Girati Che cosa hai? Oh mio dio Dove l'hai presa? A casa Ma è bellissima Lo so Voglio anche la mia Voglio il mio costume Devo andare a gestire La mia produzione Scusami un attimo Ma ti sto invidiando troppo Devo fare anche la mia Ma siamo seri? Ho la super speed Che brutto Il mio costume Aspetta Vieni Corri Corri Aspetta che ti apro Vieni Veloce Oh mio dio Oh mio dio Vabbè però c'hanno ragione Buster è gigante Non potevano fare il costume Ma è un po' troppo Mi stanno tutti prendendo in giro Cos'è quel mostro Non è giusto Lo prendete in giro Poverina È tristissima sta cosa E questo cos'è? Cosa c'è? Io flutto nel mentre Cos'hai preso? Il god bow Oh mio dio L'arco degli dei Spostati Ma è forte? Che succede? Diventano infuocate le frecce E dopo un'eternità Finalmente abbiamo 90.000 E dovrebbero bastare Per finire Gli ultimi due muri E il tetto Mancano 5.000 Dai dai ci siamo Ci siamo ormai Hai praticamente finito tutto Dai dai 5.000 poi li fai in fretta Secondo me scendi Ci sono già guarda Aspetta un attimo Perché forse È la moto di qualcun altro Sì Credo che tipo La moto di Batman Ti permetta di volare Perché ho appena visto qualcuno Che volava in altissimo Quindi o lì si è buggata Oppure Una delle due Oppure può volare Non lo so Se una moto può volare È la cosa più bella del mondo Vai a prenderti 5.000 Così concludiamo Tanto dovrebbe essere l'ultimo Il soffitto Non penso ci sia altro No? Eh non lo so Non lo so Magari c'è la sorpresa finale Vediamo Guarda persone con rampino Guarda Persone Novi con rampino Sì è Batman Sì è Batman Quindi è rampino Allora dicevi dicevi Fateci sapere Nei commenti se davvero volete Un altro episodio Con 6 consolini E facciamo proprio Direttamente con tutto pronto Quindi senza star a far vedere Di nuovo tutto Proprio di solo guerra Sfruttando tutti i poteri Ovviamente cambiando anche supereroe Per provarne altri Infatti ci sono le luci Che costano 30.000 Cioè è peggio dell'Enel Ci fanno pagare l'ira di Dio Le luci 30.000 Assurda Assurda Probabilmente È solo l'ultima cosa Suppongo Perché altrimenti Sarebbe apparsa Qualche altra parte O magari appare Quando prendi le luci Comunque Ma spero di no Ce li abbiamo Ce li abbiamo quasi Allora proviamo Proviamo e vediamo Secondo me però È l'ultima cosa Boom Finito Finito Meno male Bellino anche le luci qua Ci stanno sparando Una camera Ci stanno sparando Ho visto Ho visto anche io Ma passa attraverso il muro Uuuu aiuto Schifala Ma prima di finire il video Andiamo ovviamente A salutare gli altri Nostri sei eroi del giorno Che per oggi sono Andre Becks Ralf Elisa Miki Giuseppe E Demattecraft Ciao ragazzi Grazie mille per la condivisione Beh ragazzi Il video è finito così Se vi è piaciuto Ascettaci un bel like E se è la prima volta Che vi vedete un nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 ciao